Spettacolo, golle ed emozioni a Comiso. Questo in estrema sintesi la gara tra i verde-arancio locali e l'Aquila-Caltagirone. Esame di maturità assolutamente superato per la borgese Bende che finalmente, dopo aver giocato bene, raccoglie anche i frutti di ciò che riesce a costruire. Il Comiso parte meglio. Al minuto 11, Gurrieri pesca Tumino che incrocia il destro largo di poco. E lo stesso Tumino a sbloccare il risultato al diciassettesimo su Mischia. Vantaggio meritato per i locali che dieci minuti dopo raddoppiano con l'altro esterno Di Stefano. Gol però annullato dall'incerto direttore di gara per presunto fuorigioco del marcatore. Direttore di gara Bennice di Agrigento che applica la par condicio dei gol non validi annullando il pareggio di occhi pinti dell'Aquila al minuto 38 sempre per presunto fuorigioco del marcatore. Secondo tempo alla dodicesima il Comiso trova il raddoppio con Cinirella. Gli uomini di Dio ridotti in dieci uomini per via dell'espulsione del capitano Testa crollano e al venticiqueso subiscono anche il terzo pugno da KO. Con un geniale colpo di tacco Cinirella smarca Bohemia in piena aria, botta di sinistro e terza perla e l'apoteosi verde-arancio. Il Comiso trova poi anche la quarta marcatura prima dello scadere con lo scatenato Giovanni Cinirella.